Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi iniziamo una settimana dove andremo a vedere tutti i giochi che riguardano in qualche modo la simulazione di professioni, la simulazione di vita reale e così via. Ci saranno tre giochi di questo tipo. Questo è Trader Live Simulator ed è il primo video che vi porto. Lo andiamo a esplorare insieme. Ho questi tre giochi che vedrete nel corso di questa settimana, li pronti da un po', li ho lasciati un pochino maturare. Li andiamo a provare insieme tutti in modo da farci una prima idea, poi sfrutteremo sempre il discorso live per poter magari approfondire qualcuno di questi. Li analizzeremo a livello di grafica, li analizzeremo a livello di gameplay. Questa casa apparentemente discutibile è figo perché ha le tendine con le cordicelle ma il colore della parete anche no. Le parese elettriche insomma ci sono tutte e spero che il gioco mi consigli che cosa devo fare perché il bagno è assolutamente privo di qualsiasi servizio igienico. Scendiamo il piano di sotto e abbiamo una casa praticamente vuota. Ecco ripeto spero che il gioco ci insegni a giocare. Intanto vediamo in basso a destra l'urina, la sporcizia e la fame che abbiamo, la stamina che scende correndo col tasto shift e poi abbiamo in alto a sinistra i soldi in tasca, i soldi in banca e i soldi sulla mastercard. Allora con il tasto F apriamo la porta, prendiamo la macchina e andiamo nel nostro shop. Allora la prima cosa che io guarderei nei settings, vedere se è tutto ok, dovrebbe esserci infatti la lingua italiana, la selezioniamo e andiamo a giocare. Allora andiamo a prendere la nostra auto. Allora intanto diamo un'occhiata alla grafica che non è assolutamente nulla di spettacolare per quanto ci siano tanti posti da poter visitare, questa è la mappa, l'ATM dovrebbe essere il bancomat, la farm, il mio negozio, la casa, quindi noi abitiamo qui, il nostro negozio è in fondo qui, quindi dobbiamo andare proprio in fondo e girare giù. Ok, abbiamo la vendita di smartphone, di portatili, la farmacia, i tool shop, figo. Figo per quanto la grafica appunto sia... l'ho appena fatto. Sì, l'ho appena fatto, l'ho appena fatto, mi scusi. La grafica è, sembra, non lo so, degli asset un po' già utilizzati. Abbiamo la possibilità di, attenzione, rifillare varie cose dell'auto, il gas, l'oil e l'altro, la riparazione. In realtà gas sarebbe un po' la benzina e l'oil, il gasolio, ma vediamo un pochino se... Qua possiamo invece, anche col telefono, premendo il tasto N, andare a fare refill. Cosa che l'avevo già vista, questa non mi piace moltissimo perché... perché ricaricare l'auto dal telefono non è il massimo, secondo me. Comunque, carino il fatto che comunque c'è questa... il tachimetro, il contagiri, il livello dell'acqua, c'è la temperatura dell'acqua, il livello del carburante. È veramente figo. Vediamo un attimo. Mi sa che abbiamo superato. Brutta questa cosa, devo dire che... sì, abbiamo superato. Non è bellissimo il fatto che comunque ogni volta che apriamo la mappa la dobbiamo chiudere. Spero sia una cosa che sistemeranno a breve. Abbiamo anche il tasto R che ci permette di capovolgere il veicolo, qualora dovesse andare tutto male. Diamo un'occhiata. Il nostro negozio lo dovremmo trovare in fondo alla strada, sulla destra. Quindi, eccolo lì. Il supermarket con un van parcheggiato un po' lì. La lasciamo qua, magari metà sul marciapiede. Vediamo. Ok, fa anche il saltino. Perfetto. F lascia la macchina. Interessante. Non abbiamo modo di interagire con altre cose. Quindi possiamo solo salire e poi andare a guidarlo. Qua abbiamo la porta. Questo è il nostro negozio. E nel nostro negozio possiamo mettere col tasto Q i mobili. Quindi andiamo a vedere. Possiamo mettere il rack. Lo mettiamo. Sì, va bene. Usiamo il portattile per salvare i nostri progressi. Va bene. Ok. Fammi mettere. Sì. Il lavoratore gestirà il processo di vendita. Quindi praticamente abbiamo già un dipendente che vende in un negozio praticamente vuoto. Vuotiamo con il tasto la rotella del mouse. Dobbiamo disimballare le merci. Che spettacolo. È fastidiosissimo questo tutorial. Visita il negozio di Jabber per rifornire. Ok. Compriamo il supermercato per vendere in un altro supermercato. Se mi interrompe di nuovo. Dove lo mettiamo? Però lo scaffale lo mettiamo qua. Ok. Poi abbiamo un muro. No. Doorframe. Toilet. Bed. Table. Ah, vabbè. Questo lo faremo dopo. Non tocco nulla perché... Eh, tradotto male. Cioè, è vicino, ma... Sei un po' teso, vedo. Però... Ah, qua poi veniamo a incassare. Ok. Salve. Sì, sei un po' teso, ma va bene. Sbagliamo la roba. Ok. La mettiamo qui. Ah, non posso trasportare due... Ok. I pannolini. Bella l'animazione. Di quando va a metterli. No, non sono pannolini. Boh, non lo so. Sembrano salviettine. Vabbè, comunque... Sì, sì, no. Sono da 1,6. Quindi direi che... Abbiamo un po' di roba da prendere. Col tasto F... No, scusate. Cliccando andiamo a posizionarli. Tasto... Cliccando col mouse. Ok. Cry babies. Sì, sono pannolini. Sono pannolini. Sono uguali a quelli lì. Possiamo metterglielo dietro? No, lo mettiamo qua. Facciamo tutta una parete di pannolini. Voi sapete che a me piacciono i giochi di questo tipo. Eh, dovrei metterli un po' più dietro, però in effetti, eh. Vediamo un po' se riesco. Ok. Facciamo così, perché... Ovviamente se lavorate in un negozio come me, sapete che bisogna ottimizzare gli spazi il più possibile. Imboscando la roba dietro. Questa scatola non finisce mai. Tra l'altro, credo di doverlo mettere... Vediamo un po' se riesco a farcelo stare qui. Sì. Fantastico. Riesce a fare... Sì. Oh, finito. Finito, finalmente. Finito. Ok. Apriamo un altro scatolone. Oh, cosa è che si vende qui? Allora, visita il negozio di immobili per acquistare un bagno. Perché io dovrei comprare un bagno? Vabbè, intanto... Queste cosa sono? Fresh? Ah, eh... Sì, li mettiamo qui. Il tè. No, è un... Un tè al herb. Un tè al herb, sì. Sì, 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 sì. È veramente fighissima sta cosa del... Del posizionare le varie cose. Le mettiamo qua, vicino alla cassa, quando uno arriva non... Vuol comprare qualcosa in conclusione, se lo compra, insomma. Ok. Dai, facciamo anche una mezza muraglia lì in mezzo. Ma quanti ce ne sono dentro? In questa confezione. Eh, vabbè. Vabbè, il tè lo mettiamo lì. Li depositiamo... Uh, no. Perché poi possiamo fare un'altra parete e metterci una sorta di magazzino, quindi depositare tutta la roba lì. Io intanto inizio a depositare la roba qua, così almeno il tè ce l'abbiamo depositato qui. No, lascialo giù, per favore. Ok, il tè lo mettiamo lì. Poi qua cosa c'è dentro? Caffè. Vediamo un po' cos'è questo. Lo mettiamo qua tra i pannolini, va. Eh, sì, è caffè. È impresso. What else? Impresso tra i pannolini. Sì, perché è giusto che... Comunque... I genitori stiano svegli. Scusate, io sposto la scatola qui e li prendo man mano. È giusto che i genitori stiano svegli per cambiare in modo tempestivo i bambini, quindi gli vendiamo anche il caffè. Dimmi che è l'ultimo, no? Il caffè senza fine. No, fammelo mettere là dietro. Ok. Eh, quanto caffè. È molto... Devo dire... Molto interessante come titolo. E vi dico di star sintonizzati perché in questa settimana ne arriveranno anche altri altrettanto interessanti. Se siete stati amanti comunque di giochi come My Summer Car... Allora, quello è Car Parts. Andiamo a vedere. Si può anche saltare. Ci sono... È la classica grafica del disagio con questi edifici distrutti. Lei... Mi vende qualcosa? Le parti delle auto? Posso comprare? No, evidentemente no. Car Parts. No, non si può fare nulla. Acquistare con la E. Ah, acquistare Car Oil. Ah, ok. Si può solo comprare l'olio da lui. Da l'olio. Ok. Il furgoncino immagino non sia nostro, infatti. Dovremo andare a comprare... Lì c'è la banca. Andiamo, dare un'occhiata anche alla banca che è esattamente di fronte. Dovremo andare al Furniture Shop e al Jabber Shop. Dovremo andare a comprare un bagno. Allora, il Jabber Shop è qua in fondo. Quindi bisogna salire, andare a sinistra e poi a destra. Va bene, andiamo subito. Si, intanto... C'è anche la banca lì. Però la banca ve la tengo eventualmente dove se interessarvi. Per vederla magari in live. Usa il laptop su Save a Game. Prendiamo il laptop in mano mentre siamo fermi. Mi sa che dobbiamo scendere. Col tasto... Ah, non ho uno smartphone, giustamente. Il gioco ci fa partire proprio a zero totale. Va bene. Allora, qua dovremmo avere di fronte il Dinner. Ok. Il Diner. Andiamo. Qua abbiamo la Gas Station. Il posto è veramente angusto, eh. Proprio una roba assurda. Però, intanto, è carino perché abbiamo il negozio e possiamo gestirci la nostra vita. A me non dà fastidio questa grafica, vi dico la verità. Se il gioco è fatto bene, ha tante features, è fatto bene. Perché no? Jabber Shop. Ah, qua si compra la roba da vendere. Interessante. Ok. Ma io volevo comprare il Furniture Shop. Quindi dovete tornare indietro, andare a sinistra, poi a destra, e poi comprare il bagno. Adesso devo vedere se c'è modo di vedere gli obiettivi. Cioè, è bello che è tradotto in italiano e vedete anche le scritte sui camion. Cioè, è veramente carino come... carina come idea. Allora. L'auto non ha la benché minima fisica. Per quanto si vedano i sobbalzi sui... sui Marciapises. Allora, vediamo un po'. Dobbiamo andare dritti, verso casa. Ok, ci fermiamo a comprare un bagno. Almeno, questo è quello che ci ho detto, io. Eccolo lì. Furniture Shop. Ma che bel posto. Ma come si entra lì, scusate? Adesso, aspettate che parcheggio. Bisogna fermarla precisa. Vediamo un po'. Che posto. Ah, si entra di là? Dovevo... Ah, sì. Dai, dai. Fatemi riprendere la macchina, no? Vabbè, dai. Facciamo il giro a piedi, va. Best Burger. Dove si va a mangiare? Quando ci sale la fame. Abbiamo corso troppo. Quindi dobbiamo aspettare che la stamina si rialzi. Eccola lì. No, non si può andare di qua. Fammi un po' vedere. Eh, sì. Mannaggia, non si può andare di qua. Questa è un po' una cavolata. Però vabbè, faremo il giro con la macchina. E scopriremo che cosa... Cosa ha da offrire a quel posto? Ok, fatto tutto il percorso. Parcheggiamo l'auto in modo intelligente. In modo da... Con la Q possiamo guardare dietro. Quindi parcheggiamo in modo intelligente. In modo da poter andare via abbastanza agilmente. Scendo dall'auto e andiamo a vedere. Ci ha detto che dovevamo comprare un bagno. Quindi vediamo un po' come funziona. Cioè, ha delle cose interessanti. Perché possiamo comprarlo a 175 dollari. Può essere utilizzato per mettere i prodotti. Bello. Vendono anche le personalizzazioni per il negozio. So che lei non vede l'ora di vendere. Vedo, anche se è un po' losco. Compra un bagno. E che cacchio vuol dire comprare un bagno? Eh, comprare un bagno. Può essere un bagno. Eh, vasca. Acquista. L'ho acquistata. E adesso? Scusate, volevo capire... Che cacchio devo fare? Questo? Scrivania. Può essere usato per mettere oggetti. Usa un laptop per salvare la partita. No. Adesso io vorrei però comprarmi un telefono. Perché... Vabbè. Mi ha comprato una vasca. Per pulire. Ok. Facciamo una cosa. Torniamo a casa adesso. Ormai la strada la so. Inizia a prendere confidenza con questo bellissimo paese. Rimane sempre comunque la... Il fatto che... Dovesse interessarvi vederlo in live. Se ne può parlare, insomma. Così come stesso discorso vale per gli altri giochi. Che vedrete questa settimana. Intanto le 18 vengono segnate da questo improvviso calo di luce. Si può entrare in ogni edificio. Dovremmo anche andare al negozio a vedere che cosa succede. Ma non è questo il giorno. Questo secondo me è un gioco che può svilupparsi fondamentalmente in due modi. Davvero molto distanti tra loro. Il parere mio è... O questo gioco lo portano avanti e diventa bello. Gli aggiungono features e diventa veramente bello. O viene abbandonato a se stesso. Credo che una via di mezzo non esista per giochi del genere. Intanto, col tasto Q, possiamo andare a posizionare il bagno. Come avete visto, il bagno mancava. Quindi io a questo punto prendo il toilet e glielo posiziono. In fondo, qui, direi che è la parte giusta. Ok. Poi, posizioniamo anche il bagno. Vabbè, una doccia sarebbe un po' più moderna. Però, vabbè, ci mettiamo una vasca. Molto bene. Quindi posso usarla. Sì. Mi sono lavato. Mi sono svuotato la vescica. E dovrei anche mangiare. Però, vediamo un attimo. Abbiamo anche un laptop. Abbiamo un letto. Anche un tavolo. Quindi, dov'è la nostra camera? La camera rosa? No, dormiamo qua. Allora, mettiamoci un tavolo. Che mettiamo qui, così. Tavolo veramente del disagio. Macchiato anch'esso. Quindi, poi, mettiamo un laptop. Che è visibilmente un vecchissimo computer portatile. E poi ci prezziamo anche un letto. Che almeno... No, non una porta. Ma un letto. Un letto. Cavoli, questo qua è bello grande di letto. Vabbè, lo mettiamo qua così. Indie Designer. Va bene. Quindi, usando il computer, col tasto F, possiamo... Uh, uh. Arredito del negozio. Totale... Si lamenta? Cacchio è sta roba. Computer portatile. Edicola. Aggiornamenti del negozio. Uh, possiamo aggiungere uno stand. Possiamo comprare la roba direttamente da qui. Allora, parte cambiare il nome al supermercato. Aprire alle 7 di mattina. Chiude automaticamente quando è tutto finito. Le bollette si pagano da sole. Le fatture. Assumo il secondo cassiere di 2500 dollari. Acquista The Farm. No. Cos'è fatture? Non abbiamo nulla da pagare al momento. Sembra veramente figo. Tutto molto figo, a dire la verità. Andiamo... Passiamo la giornata. Andiamo a dormire. Ah, dobbiamo andare al ristorante quando abbiamo fame? Vabbè, immagino si possa comprare qualcosa anche quando siamo a casa. Comunque, sono le 7 di mattina. Negozio è aperto. Andiamo a dare un'occhiata. Vediamo se... Eh, è figo. Cioè, potete fare l'omino Conard qua. Potete andare. Mi hanno anche parcheggiato la macchina bene. Ah, col tasto E possiamo ricaricare l'olio. Ma non lo abbiamo. Mangia olio alla macchina. Vabbè. Andiamo al supermercato e vediamo come sta andando. Come ultima cosa facciamo anche una visitina alla banca. Perché veramente mi sembra bello appunto. Davanti a me ci sono due vie. O il gioco che viene sviluppato bene. A parte che adesso prima di registrarlo c'è appena stata una patch. Quindi... O mi diventa un nuovo Maisel Mercado, però ho fatto bene. Cioè, Maisel Mercado è fatto benissimo per quello che fa. Ma qui, la gestione del supermercato può essere veramente... Il trash è dietro l'angolo. Quindi bisogna fare molta attenzione. Se lo sviluppano bene può essere un giocone perché mi ispira molto giocare una cosa del genere. Intanto... L'entrata fa veramente pietà. Ma davvero pietà. Perché non si può fare un... Ah, possiamo aprire... Cioè, dovevi aprire... Fare una cosa dovevi fare. Ah, c'è già dentro gente che è quello... È un tizio roschissimo, anche lui. Ah, ha venduto il pannolino. Ok, bravo. Tu sì che sei. E qua invece? È il magazzino! Ma no! È la carta igienica. Toilet paper. Voleva un cetriolo. Vabbè, mi spiace. E qua invece c'è dentro? Uh, la, 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 la. È, ah... Bravo! 15 dollari. Da money to collect. Va bene. Tu continua pure a vendere, tranquillo. Non so se mi vende anche la roba sul pavimento o solo la roba sul... Però comunque è dentro di un negozio vuoto. Va bene, parcheggio ottimo. Andiamo in banca a vedere. Perché ci sono un sacco di cose. Ecco qua. Qua veramente apre un mondo per quanto riguarda le live questo titolo, eh. Ve lo dico perché la banca. Salve. Sì, sì, ma io... Vado tranquillo. Salve. Posso trasferire dal portafoglio alla banca? O dalla banca al portafoglio? Dalla banca alla carta di credito? Ma che cavolo cambierà? Avere la banca o avere la carta? O avere i contanti in giro? Ci sono anche dei furti, immagino. Perché intanto vediamo un po' cosa c'è di qua. Mi fa morire vedere sta roba. Perché... 50 dollari è preso. Dedotto dal conto bancario. Sì, interessante. Ci sta 50 euro al giorno? Ci sta per un cassiere. Lo paghiamo alle 9 di mattina, ma va bene. Io speravo, prese il negozio, da solo comunque la banca. Sembra molto articolata. Poi, vediamo un po' cosa c'è di qua. Abbiamo quello lì. Il tool shop. Che mi interessa molto andare a vederlo. Perché potrebbe essere interessante. Benvenuto il caffè. Bene, bene, bene. Abbiamo anche il magazzino. Tanto qua si fanno freestyle. Salve. Sembra uno scontro tra gang. Vabbè, il tè. Vabbè, bravi, bravi, bravi. Si può comprare qualcosa? Una levigata dice? Sono fatte bene però, devo dire. Salve. Buy cart. Cioè, posso comprare un carrello? Ma mi vendi solo il carrello? Ma dai! Seguita come la macchina. Vabbè, dai, mi serviva. Magari possiamo farci qualcosa. Vediamo subito. Vogliono anche un pulitore della toeletta. E mi spiace che... Ma lo organizziamo bene sto posto. Lo facciamo diventare un gran posto. Vediamo un po'. Possiamo far qualcosa con questo? Ah, interagire. Allora. Interagire. Ah sì? Ma dai! E questo? Detersive, detergente. Ma... No, 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 no. Mettilo lì. No, volevo... Volevo usare il... Il carrello. Cioè, il carrello è fighissimo. Perché mi porta le casse. Immagino quando ci saranno le cose più pesanti lo dovremmo usare. Lo lasciamo qua, che fa sempre la sua bella figura. Beh, diciamo che stiamo vendendo, stiamo svuotando tutto, poi potremmo mettere fuori le altre cose. Ma in realtà dovremmo comprare anche altre cose. Allora, la farm, l'exporting company, chissà che cosa sono. Ragazzi, c'è anche quella... la trading company. Anzi, facciamo una cosa. Andiamo a vedere che cos'è la trading company come ultima cosa, prima di salutarci. Perché questo gioco veramente mi ha stupito. Allora, dobbiamo andare su, girare a sinistra, la seconda a destra e poi a sinistra. Quindi, destra a sinistra, destra a sinistra e poi la seconda a destra. Andiamo a vedere che cos'è la trading company, così ci leviamo anche un altro dubbio. Ovviamente, questi video di questa settimana verranno giocati come, appunto, mi dice il buono Siancaster, fossero dei giochi che esploriamo insieme sul divano. Allora, intanto la benzina è buona. Non mi sembra che stia bevendo granché quest'auto per i pochi giri che abbiamo fatto. Destra a sinistra, la seconda, quindi questa. E andiamo alla trading company, vediamo che cosa si può fare. Ehm, vedi di qua. Eccola lì, trading company. Intanto continuiamo a fatturare. Aia! Vediamo un po' se si è danneggiata, premendo il tasto E. Eh sì, un po' danneggiata lo è. Allora, il trading company non c'è ancora nulla qua, credo. No? Ah sì, c'è un nomino lì. Prima guardo la porta. Posso poter agire? Vediamo un po' cosa si può fare con... No, no, abbastanza soldi. Eh, ah, posso comprare financial stock in trading company. Cioè, cos'è? Una sorta di acquista-compra-vendita di azioni? Perché poi ci sarebbe in realtà anche la possibilità di comprare allora qua il car shop e lo andiamo a vedere subito. Perché poi dovremmo andare a comprarci anche un cellulare per poterci gestire le varie cose che tra l'altro li vendevano di fronte alla banca, in fianco al negozio. Comunque, già che siamo qui, mi sto facendo prendere e andiamo a vedere anche l'altro. Davvero molto interessante questo titolo. Non vedo l'ora di portarvi anche quello prossimo, insomma, che è altrettanto interessante. Eppure il terzo di questa settimana, basata, diciamo, concentrata, focalizzata sui simulatori di vita e di professione. Poi mi farete sapere che cosa ne pensate di questa idea. Intanto io parcheggio qui. Che bella! Cioè, posso possedere anche una vespa? Mi scusi. Buon uomo. Possiamo raccogliere... Ah, eh... Vabbè, un furgone. Un camion. Uno scooter. E un'auto sportiva. Cioè, non c'è molta scelta, però... Però non è male, eh. Il fatto comunque di poter comprare... Perché qua è finita. È tutto finito. Però è figo, perché qua ci fa vedere com'è il camion. Il camion possiamo aprire dietro? Sì, immagino. Infatti. Lo apriamo. Qua abbiamo un pick-up. E espanderemo la nostra... La nostra grande attività. Niente. A questo punto, torno a casa. Salvo la partita. E attendo il vostro feedback per quanto riguarda questo titolo. In modo da, eventualmente, poi prepararmi per un eventuale live. Qualora il gioco dovesse farvi letteralmente impazzire. Ragazzi. Con questo vi saluto. Alla prossima. E... Ciao, ciao! Ciao!